Ciao a tutti e benvenuti finalmente a questo nuovo episodio del let's play della mia scuderia Una vita per i cavalli. Un episodio che da troppo tempo aspettavate. Si riparte dopo ben un mese e mezzo di mia assenza per ragioni familiari dalle scene di YouTube Ma preferisco cambiare argomento. Nella scorsa puntata abbiamo fatto un'ultima gara e abbiamo raggiunto tutti i traguardi che bisognava raggiungere In questa puntata invece faremo delle cose che ci sono e che bisogna farle Abbiamo registrato due ospiti e nel frattempo ci dirigiamo verso la stalla e andiamo a dar da mangiare i cavalli Prendiamo il secchio e diamo da mangiare ai nostri bestioni Purtroppo abbiamo solamente più 4 supplementi e bisognerebbe comprarne degli altri Purtroppo li stiamo finendo Bene, io farei una cosa Opero un primo stacco e ci vediamo appena ho finito in stalla Anzi, nei box Bene, eccoci nuovamente qua Abbiamo terminato di fare tutto ciò che dovevamo fare nei box E si torna a registrare ospiti Abbiamo registrato un ragazzo Al momento che non c'è ancora nessuno Approfittiamoci per fare un piccolo salto in maneggio A vedere se c'è qualcuno che ha bisogno che noi addestrassimo un Puredro Oggi il cliente ci ha portato un Puredro ad allenare Se facciamo un buon lavoro Guadagneremo 90 crediti 3, 2, 1 E il lavoro a inizio 3, 2, 1 Primo checkpoint fatto 5, 4, 3, 2, 1 Secondo checkpoint fatto Siamo quasi al terzo checkpoint Fatto Passiamo al quarto checkpoint Voilà Penultimo checkpoint Fatto Ultimo checkpoint Et voilà Abbiamo addestrato il Puredro E il cliente ci paga 90 crediti Abbiamo fatto un ottimo lavoro Siamo stati fantastici Oh! C'è una bella ragazza Parliamo un attimo con lei Parliamo la visitatrice Vorrebbe passare una giornata alla scuderia E restare anche per la notte Facciamo che registra come ospite E affare fatto Visto che anche la parte della registrazione degli ospiti È un tantino noiosa da farvi vedere Io direi di fare un altro stacco E ci vediamo appena ho finito di registrare ospiti Bene ragazzi! Eccoci un'altra volta qua! Abbiamo finito di registrare ospiti! Quindi finalmente Devo dirvi che è stata la parte Leggermente più noiosa Nel frattempo Strigliamo il nostro dinamite Che sarebbe Un nostro compagno di gara A quattro zoccoli Una bella strigliatura Ce ne vuole veramente Anzi Ci vuoleva proprio Anche perché La manutenzione è una cosa più importante In assoluto Soprattutto nei cavalli Oh! I clienti Hanno prenotato I nostri cavalli Facciamo un piccolo salto Al computer E facciamo Alcuni acquisti Che ci sono da fare Compriamo Dei supplementi Che sono finiti E del fieno E del fieno Che ne abbiamo un pochettino poco Supplementi E del fieno Medicina abbiamo tutto A parte il vaccino generale Che Manca solo Più uno Spendiamo 240 crediti E affare fatto Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un like Se volete Iscrivetevi al canale Per questa puntata È tutto Io vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo episodio Non mancate Ciao a tutti